che non abbiamo identificato, anche un cinese, che portavano soldi per comprare i calciatori, i partecipanti veri delle partite, con le complicità chiaramente dell'area tecnica, dei dirigenti sportivi, in alcuni casi anche proprio dei presidenti delle società di calcio. C'è un tentativo di combina anche di una partita di serie B, non riuscito da parte di Nicola e il direttore sportivo dell'Aquila? Guardi, ci sono anche partite di serie B che hanno tentato, almeno da quelle che sono le nostre attività tecniche, di combinare, sono state segnalate alla Procura della Repubblica, in questi casi però mancava un anello di congiunzione, non siamo riusciti a identificare le persone con le quali i soggetti che normalmente articolavano questo sistema di combina avevano preso i miei contatti. C'è un episodio che riguarda una partita in particolare che è Cremonesi e Profati. Il dottor Bombardiere ha parlato di Ulizio che è il giocatore, ma è il padre che faceva parte della società. Si fa espellere e poi chiede al padre di intervenire per avere meno giornate di squadifica possibili. A questo punto c'è da chiedersi con chi è intervenuto e perché chi ha dato una giornata di squadifica alla ragazza? Sì, su questo abbiamo delle indagini e chiaramente è un fatto che si commenta da solo, nelle intercettazioni Ulizio Mauro per far perdere la sua squadra da un pugno in pieno volto ad un avversario, si fa espellere volontariamente dal campo di calcio, era diffidato e normalmente si attendeva a una squadifica di almeno tre giornate. In quella circostanza chiama il padre, gli dice se poteva chiamare quel suo amico in lega, il padre dice sì, vabbè lo disturbo solo per questa volta, poi in effetti il figlio prende una sola giornata e manda un messaggio al padre nel quale gli diceva quasi il numero uno. Grazie. Te coinvolta in primo piano rispetto a questi indagini? Sì, diciamo che le nostre attenzioni investigative non erano rivolti alla dirigenza del Brindisi, ma erano rivolti alla società prevalentemente, al direttore sportivo del Neapolis Galcio. E' stato lui ad avere una serie di contatti con il direttore sportivo del Brindisi e di poi anche con la presidenza, quindi la dirigenza del Brindisi, al fine di fargli vincere alcune partite di questo campionato di calcio. E altre squadre pugliesi coinvolte in varie titoli? Ma guardate, prevalentemente il Brindisi. E poi c'è qualche cosa che abbiamo con altre partite, però guardate abbiamo un elenco molto lungo. Grazie. Grazie. Grazie.